Ehi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Katero News, in questo nuovo video vi porto Massacro tra le nebbie. Questa missione è il primo, diciamo, per uccidere 20 gusti tra le nebbie, come ve li elenco Smash Up, vi conoscete il Blaster, anche questi di Blaster sono facili, sono quelli là che si reggono con 4 zampe, cioè piedi e mani, tutte le due terra, e vi spara un rocce laser. Questo è il Taker, quelli che vura in aria attraverso i muni, e il Ringer, quelli che fanno la pareria, vi entità di mani e li lanciano addosso, facile da trovare durante le partite, resistenze e così così. Insomma, forse anche i troll, ma non ne sono sicuro, insomma, vi ho fatto un esempio. Sembra che siete sicuri, probabilmente vi farò vedere qualche esempio, tipo adesso. Vi ho appena, appena fatti vedere alcuni esempi, come di due Lutte che avevi dovuto Mesh, insomma, se per farvi chiaro, intanto, ecco qua, cominciamo la partita a uccidervi, io vi faccio rabbia perché voleva rifare pure a questo episodio 60 o magari due ore, perché divertite, a volte non sai, a volte non sai che ci ho trovato, quindi ecco qua che li ammazzo. Adesso vi ho avuto una musica sepatica e lascio fare il video. Grazie. 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 Grazie.